110.000 euro in farmaci e materiale medico, 90.000 raccolti in denaro, è il bilancio dell'iniziativa We Care Ucraina a favore delle popolazioni colpite dalla guerra, organizzata nei mesi scorsi da Croce Rossa, Rotary Distretto 2050 e Federpharma. Tre forze in campo, alle quali è doveroso aggiungerne una quarta, i piacentini che con la loro generosità hanno fatto sì che l'iniziativa avesse successo. È andata molto molto bene, sono stati tanti, tantissimi i piacentini che sono stati vicini all'iniziativa, tante sono state anche le donazioni che Croce Rossa ha ricevuto da enti e privati per una somma totale che supera i 50.000 euro, che invece stiamo investendo qui sul territorio per le famiglie ucraine che sono arrivate qui come profughi e che tramite l'area socioassistenziale stiamo fornendo a loro tutto il necessario per andare avanti in questi giorni, per loro è molto difficile. Una iniziativa partita subito dopo lo scoppio del conflitto che ha permesso di raccogliere, catalogare, organizzare e inviare materiali sanitari e farmaci. È stata una collaborazione fantastica perché Croce Rossa è stata presente moltissimo sul territorio con i suoi volontari che sistematicamente andavano a raccogliere dalle farmacie aderenti a Fed and Pharma i prodotti raccolti. Anche noi come Rotary abbiamo ricevuto tante altre donazioni oltre questa raccolta, sempre destinate all'Ucraina e sempre destinate al territorio ucraino. Abbiamo raccolto una somma molto importante vicina ai 40.000 euro che anche noi stiamo investendo in prodotti medicali, macchinari da inviare ancora in Ucraina perché ci sono ancora emergenze, ci sono ospedali da campo che hanno bisogno di supporto e quindi tante persone che hanno bisogno di noi italiani e piacentini che abbiamo risposto all'appello. I farmacisti si sono subito adoperati in maniera capillare come ormai avviene ed è avvenuto anche durante la pandemia, si sono messe a disposizione e quello che ci ha veramente colpito è stata la grande generosità delle persone che poi si interessavano e immediatamente hanno risposto come i piacentini sanno fare. Ci tengo a sottolineare che la nostra visione è stata veramente massiccia perché ci sono state ben 73 farmacie tra Piacenza e provincia e nel capoluogo praticamente la totalità delle farmacie aderito quindi siamo molto contenti di come sia andata.